La migrazione dei materassi avviene in modo casuale durante l'anno. Principalmente però quando iniziano gli sconti di Hemiflex per rivaleggiare con i loro principali nemici, i divani poltrone sofà. Al suo interno la comunità è pacifica ed uguale, infatti i materassi neri e bianchi convivono in armonia. Recentemente si è sparsa una voce che uno di questi materassi potrebbe diventare il nuovo premier dell'Italia. Ora non so più che cosa inventarmi, quindi ripasso la linea allo studio.